Personalmente sarei felicissimo, anche perché non dimentichiamoci che Papa Francesco già nel passato, nel 2015, quando erano in corso le ostilità a Bangui, capitale della Repubblica Centroafricana, fece la scelta di inaugurare l'anno santo della misericordia proprio nella tormentata capitale centroafricana. Non dimentichiamo che si recherà nel mese di luglio nel Sud Sudan. Sono paesi dove è in atto la belligeranza, tutti gli effetti, anche se, inutile nasconderselo, sarà necessario comunque, riguardo a una possibile visita a Kiev, davvero un discernimento. È evidente che la preoccupazione di Papa Francesco è anche quella di non mettere a repentaglio coloro che dovessero accompagnarlo e poi comunque capire se effettivamente vi sono le condizioni perché possa essere messaggero di pace in una città che è come Staviglione. O anche a Mosca, però, a proposito di questa battuta di Roberto Sommella, o anche una visita a Mosca, certo non aiutano i rapporti tra la nostra Chiesa e la Chiesa ortodossa russa. Insomma, abbiamo sentito le parole del patriarca di tutte le Russie l'altro giorno, ribadite, in questi giorni. Certo, una non unità di questo tipo non aiuta. Diciamo che Papa Francesco ce la sta mettendo tutta. Dobbiamo tenere presente che l'ortodossia è divisa al proprio interno. E comunque l'impianto è quello della terza Roma per quanto concerne il patriarcato di Mosca. Quindi sono due facce della stessa medaglia. Da una parte c'è l'imperium, dunque il potere politico, e dall'altra il sacerdozium. È una visione cesero-papista, molto teocratica. Papa Francesco l'ha detto a chiare lettere, il nostro compito come uomini di Dio, religiosi, è quello di affermare il Vangelo della pace su un piano spirituale. Papa Francesco in questo senso non vuole svolgere un'azione politica, ma un'azione che in una maniera o nell'altra inneschi una conversione del cuore. Allora facciamo così, è tardissimo.